buongiorno a tutti questo è il video conclusivo dell'intervista alle due over 80 che ho girato poco tempo fa devo dire che queste persone sono state squisitamente disponibili nell'offrirsi a testimoniare le loro esperienze durante la guerra un ricordo sicuramente molto doloroso per loro che ha segnato la loro vita la loro esistenza e quindi questo va a incrementare ulteriormente il valore di queste testimonianze e per cui ringrazio sicuramente queste due signore che si sono prestate a questo questo video e per quanto riguarda le mie impressioni devo dire che oggi sicuramente parlo per l'Italia parlo per l'Europa le guerre non ci sono più ma stiamo combattendo in realtà una guerra molto più sottile una guerra molto più subdola che molti se ne sono accorti si sta svolgendo su piani diversi quindi non in maniera così visibile ma in maniera un po' più sommersa con l'introduzione di nuovi concetti nuove idee che ci stanno portando verso una società sempre più orientata verso l'anonimato cioè le persone stanno perdendo sempre più di identità e questo diciamo si aggraverà ancora ulteriormente nei prossimi anni per questo devo dire che la mia preoccupazione che risulta dall'ascolto di queste due signore arriva dal fatto che se loro hanno vissuto una guerra in cui si combatteva con le armi una una guerra ben visibile con i cararmati con quei fucili con le bombe con le granate adesso la guerra è molto più molto più sottile molto più infida e sto pensando soprattutto alle generazioni future ai bambini di oggi e quelle di domani che si dovranno parcaminare in una società che sta seminando adesso nuovi concetti che sta cercando di portarci verso un controllo più completo mi riferisco ai vaccini mi riferisco ai sessi mi riferisco alla diciamo alla cultura alimentare che ci viene sempre più inculcata in maniera non troppo vistosa però lentamente lentamente goccia dopo goccia noi l'assimiliamo e finché non diventa poi la realtà quotidiana questo è molto preoccupante questo è questa è una vera guerra che si sta combattendo proprio adesso per la quale dovremmo essere preparati con gli occhi aperti ben informati e sapere come organizzarci per utilizzare le nostre nuove informazioni per aiutare gli altri i nostri figli e i nostri amici quindi con questo concludo il video vi saluto vi ringrazio mettete un like se vi è piaciuto e a presto per i prossimi video ciao a tutti